I notevoli sbalzi di temperatura delle scorse settimane, le notevoli escursioni termiche nell'arco della stessa giornata, con differenze anche di 10 gradi tra le più calde e le più fredde, hanno comportato come di conseguenza una diffusa propagazione tra le persone di malattie da raffreddamento. Riniti, naso che cola, starnuti, mal di gola e spossatezza sono i sintomi più diffusi, nulla a che vedere però con l'influenza vera e propria che deve ancora fare la sua comparsa e per la quale in queste settimane l'Osservatorio Mondiale della Sanità sta valutando la sua evoluzione e quali saranno i ceppi da inserire nei vaccini da approntare per la prossima campagna vaccinale antinfluenzale, che dovrebbe partire però da metà novembre. Nel frattempo però gli studi medici pullulano di persone che presentano sintomatologia diffusa e ricorrente, ma spesso per affrontare tutto questo si può fare ricorso all'automedicazione. Però di serio sinceramente ancora non vediamo granché come patologia, le patologie che ci sono adesso sono normali per questa stagione, molti ci chiedono di anticipare il vaccino ma devo essere chiaro, cioè con queste patologie il vaccino non serve, il vaccino servirà per l'influenza che verrà sicuramente nei mesi freddi, cioè gennaio, febbraio e marzo. Quali sono quindi i rimedi, come si possono affrontare questi piccoli disturbi stagionali? Qui bisogna essere chiari, molti pazienti fanno da soli e fanno anche bene perché non c'è bisogno del dottore per queste piccole patologie. Diciamo che si prendono i soliti farmaci, quindi paracetamolo, aspirina, gli antibiotici sono assolutamente vietati perché sono forme virali, quindi a meno che non ci siano delle complicanze a questo punto l'antibiotico non serve.